Ciao, Mara Mussoni, Cancer Coach. Oggi voglio invitarti a riflettere sulle cause del tuo cancro. Scoprire le cause del tuo cancro significa indagare quali sono, o meglio, quali erano le abitudini prima della malattia. Quindi, cosa mangiavo, se mi muovevo, se bevevo acqua buona, quali relazioni mi nutrivano, perché ovviamente siamo un tutt'uno e quindi il nutrimento di una persona arriva sotto vari aspetti. Quindi comprendere le cause, ripeto, significa comprendere i miei atteggiamenti, le mie abitudini, le mie dinamiche, in modo che posso capire da dove partire per poi modificare e piano piano migliorare il mio atteggiamento, le mie abitudini e il mio modo di fare. Quindi partire dalle cause e comprendere che ogni causa al suo effetto. Ovviamente, se mangio pesante, mi sentirò appesantito. Se mangio alimenti che mi intossicano, ovviamente il mio corpo farà più fatica a smaltirli e a detossinare le tossine che ho mangiato. Se ho bevuto eventualmente bibite gassate, piuttosto che alcol, piuttosto che bibite sicuramente sono molto pieni di zucchero, ovviamente avrò avuto un risvolto nel mio corpo. Cosa diversa, ovviamente, se io mi nutro di cibo buono, acqua buona, ma al tempo stesso anche di emozioni buone. Quindi comprendere i vari aspetti è molto importante per comprendere e migliorare tutti questi atteggiamenti. Perché se è arrivata la malattia, il significato della malattia va compreso e capire che la causa ha generato un effetto ti potrà dare la forza di iniziare a fare piccoli passi verso un cambiamento e verso un futuro migliore. Mi auguro che questo video ti possa essere servito, aspetto i tuoi commenti e condividilo con i tuoi amici se credi possa essere utile. Grazie e alla prossima. Ciao ciao!